Ragazzi, Pessina si è infortunato in Atalanta-Mila come tutti sapete, infatti ha saltato anche la partita con la nazionale però è uscito il comunicato ufficiale della società a lesione di secondo grado al flessore della gamba quindi rischia praticamente due mesi di stop siamo quasi a metà ottobre, tornerà più o meno per metà dicembre ragazzi quindi questo è il momento di darlo via se potete prendere gli svincolati da vostra lega tanto meglio magari lo riprenderete a gennaio nell'assa di riparazione se no, se avete solo gli scambi, cercate di darlo via per un centrocampista quanto meno titolare se poi voi avete tutti i centrocampisti titolari, siete appostissimo allora potete anche tenere Pessina per il fatto che comunque nel giro e nel ritorno ce l'avrete lui è quasi sempre titolare, comunque nella Dea scrivimi qui sotto cosa farei con Pessina lascia un like al video e iscriviti al canale se ami fantacalcio ciao